Un raggio di speranza illumina il reparto di pediatria dell'ospedale di Locri con l'apertura dello sportello Isola Felice, un'iniziativa curata con amore dai volontari dell'associazione Sogna in Grande, presieduta da Anthony Voice. Questo sportello diventa un punto di incontro per coloro che desiderano fare la differenza nella vita dei bambini malati, offrendo loro un sorriso e un conforto nei momenti di difficoltà. L'obiettivo principale dello sportello è quello di raccogliere fondi per decorare ed attrezzare il centro vaccinale e la stessa area pediatrica dell'ospedale, creando così un ambiente più accogliente e confortevole per i piccoli pazienti e le loro famiglie. Ogni donazione, grande o piccola, contribuirà a migliorare la qualità dell'assistenza offerta e a rendere il soggiorno all'ospedale di Locri più piacevole per i bambini. Gli sforzi dell'associazione Sogna in Grande non si fermano qui, si prevedono anche numerose iniziative di solidarietà dedicate ai più piccoli, con la prima in ordine di tempo in occasione delle prossime festività pasquali. Queste iniziative non solo portano un sorriso sui volti dei bimbi, ma promuovono anche un senso di comunità e solidarietà tra i cittadini di Locri ed oltre. La generosità e la dedizione dei volontari, insieme al sostegno della comunità, rendono possibile realizzare i sogni dei bambini malati e trasformare l'esperienza ospedaliera in un momento meno difficile e più sereno. Così facciamo un invito a tutti coloro che desiderano fare la loro parte a contribuire a questa meravigliosa causa e diffondere gioia e speranza tra i più piccolini.